Buongiorno da FTO Online, partenza incerta per il Fuzzimiba, abbiamo visto infatti un avvio positivo ma al momento l'indice cede lo 0,45%, complice anche la notizia della morte di Del Vecchio che sta appesantendo sia Generali sia Mediobanca. In ogni caso rimaniamo ancora all'interno di questa fase laterale che si sta disegnando da alcune sedute, una fase laterale che potrebbe anche dimostrarsi un doppio minimo, quindi una figura rialzista, ma per questo sarebbe necessario il superamento dei 22.500 punti. Se invece accedere dovesse essere area 21.500 è probabile la violazione anche del minimo di marzo a 21.000. Il DAX è una situazione molto simile, anche se per il momento è positivo ma abbiamo spiegato come mai la borsa italiana è più pesante delle altre in questo momento, comunque anche il DAX si mantiene nella fase laterale che si sta disegnando da alcune sedute, quindi non è stato completato il doppio minimo ma non è neanche stata negata la possibilità che alla fine si realizzi. Per quello che riguarda l'Eurostox 50 invece la figura rialzista era stata completata già nella seduta di venerdì, i prezzi sono poi saliti a toccare il massimo di questa lunga candela negativa, però per il momento non sono riusciti a mantenersi a di sopra di quella resistenza. Quindi servirà la rottura di 3.580 3.6 per dare un vero e proprio segnale di forza anche sul fronte dell'Eurostox. Questo è il grafico dell'S&P 500, l'ultima candela fa riferimento alla seduta di Erna, quindi per adesso il future è positivo, c'è stata questa forte impennata venerdì, vedete che i prezzi si stanno dirigendo verso questa resistenza intorno ai 4.000-4.030 punti dove passano la media mobile esponenziale a 50 giorni e la linea ribassista che è il lato alto del canale che contiene i prezzi dal massimo di fine marzo. Quindi siamo con questa forte resistenza, poco oltre i 4.000 punti, che dovrà essere superata per dare un seguito al rimbalzo. Infine guardiamo l'ETF relativo al Fuzzimib Short, quindi ovviamente il grafico è il reciproco di quello del Fuzzimib. In questo caso è l'ETF con leva 3, il suo codice 3-ITS. Settimana scorsa stavamo seguendo la possibilità che venisse superata area 1.35 con la rottura di quei livelli. Sarebbe stato inviato un segnale di forza per l'ETF, quindi di debolezza per l'indice, l'ETF è tornato verso la base di questa fase laterale, non è sceso al di sotto, quindi anche da un punto di vista di questo strumento non è stato ancora confermato il segnale rialzista, che sarebbe ovviamente un segnale ribassista per l'indice, ma non è neanche stata negata la possibilità che questo avvenga. Quindi attenzione perché sono ancora possibili evoluzioni in entrambi i sensi. Prima di passare oltre volevo ricordarvi che domani teniamo un webinar, in questo caso si tratta di un webinar a pagamento. Trovate le caratteristiche, le descrizioni del webinar sulla nostra pagina FTA online e ci sarà anche il link nella descrizione del video per andare a vedere la pagina di descrizione dell'appuntamento. Penso che sia una cosa interessante, soprattutto in questo momento dell'anno in cui c'è grande incertezza, avere una guida su come muoversi per i prossimi mesi potrebbe essere una cosa importante. Andiamo a guardare oggi insieme alcuni titoli del mercato americano, in particolare sono 4, Bank, FedEx, Salesforce e Costco che sono presi dalla nostra newsletter giornaliera che viene inviato a tutti quelli che ci seguono su Patreon, quindi www.patreon.com.ftonline. Ogni settimana mettiamo l'aggiornamento della lista sia per quello che riguarda i titoli preferiti del mercato americano e del mercato italiano, oltre a tutta una serie di altre informazioni tra cui segnali di trading per Italia, Europa e Stati Uniti. Vedete nella lista dei titoli più interessanti, nella componente aggressiva perché ogni portafoglio, ogni trading list è divisa in tre profili di rischio, nella componente aggressiva questa è la parte relativa al mercato italiano, invece se andiamo a prendere la parte relativa al mercato americano vedete c'è FedEx, Bank, Costco e Salesforce che sono i titoli che andiamo a guardare oggi, c'è anche Tesla ma di Tesla abbiamo parlato recentemente. Iniziamo con Bank, su Bank c'è questo potenziale doppio minimo, quindi il titolo è sicuramente interessante anche se manca un piccolo sforzo per confermare appunto il completamento della figura che avverrebbe oltre 142,20, recentemente l'RSI a 14 giorni aveva disegnato questo testa a spalle rialzista che effettivamente sta funzionando da base per un tentativo di rimbalzo, primo target a 166,85 che è il gap del 27 di aprile, attenzione se dobbiamo scendere sotto area 120 perché l'ipotesi rialzista verrebbe messa in discussione. Per quello che riguarda Costco siamo anche qui su una zona importante di resistenza, 38,2% di retracement ed è ribasso dal massimo del 7 di aprile, la resistenza è già stata toccata il 2 di giugno senza che ci sia stata una rottura decisa ma se dovesse esserci ritengo probabili i movimenti tra 5,30 e 5,35 almeno. Per quello che riguarda FedEx che è un titolo molto importante in quanto fornisce indicazioni su quello che è l'andamento dell'economia, c'è stata negli ultimi mesi la creazione di questa fase laterale, potrebbe addirittura essere vista come un testa a spalle rialzista ormai completato, questa sarebbe stata la neckline, ma diciamo che in ogni caso l'elemento importante da sottolineare è che proprio venerdì c'è stata la rottura, anche se in chiusura seduta non in modo così netto, del massimo del 29 di marzo a 2,41,57. Se venisse confermata questa rottura anche nelle prossime sedute ci sarebbe un bel segnale di forza che potrebbe vedere il titolo tornare verso 2,85 e 2,90 almeno. Infine Salesforce, anche qui c'è un potenziale doppio minimo in preparazione, anche in questo caso manca ancora poco per vederlo confermato, servirebbe la rottura di 192,70 per aprire la strada a movimenti di 40-45 dollari verso l'alto, quindi almeno fino in area 2,30-2,35. Recentemente i prezzi si sono già lasciati alle spalle, questa linea di tendenza, quindi diciamo un primo segnale di forza è stato inviato e a questo punto con la rottura del massimo di giugno avrebbe appunto data una conferma positiva per vedere salire ulteriormente le quotazioni. Per quello che riguarda invece i titoli del mercato italiano, generale intesa Mediobanca e Moncler, vi rimando all'analisi riservata agli utenti Patreon, quindi Patreon, FTA Online. Vi do appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie. Grazie.